L'azienda di pelletteria Pian di Scomanche, azienda dormitorio con tre lavoratori su 12 al nero. Oltre 30.000 euro di sanzioni amministrative e due persone denunciate alla Procura della Repubblica di Arezzo. Questo è il bilancio dell'attività di controllo della Compagnia dei Carabinieri di San Giovanni Valdarno e del Nucleo Carabinieri Spettorato del Lavoro di Arezzo. L'azienda di pelletteria, che contava 12 dipendenti cinesi, produce portafogli in pelle ed accessori per borse contotersi. Aveva anche una zona di vita a dormitorio senza però il rilascio di specifica abitabilità da parte dell'ufficio tecnico comunale. Il 29 ottobre è stato effettuato il controllo. Tra i reati contestati l'omissione di nomina del medico per le visite dei lavoratori, la mancanza della cassetta di primo soccorso, l'utilizzo di macchine da cucire senza dispositivi di sicurezza. Mancava inoltre l'informazione e la formazione dei dipendenti, oltre al documento di valutazione dei rischi. Inoltre, tre lavoratori su 12 erano impiegati al nero.